Il 3 dicembre si celebra in tutto il mondo la giornata dedicata alle persone con disabilità allo scopo di promuoverne i diritti e il benessere. La ricorrenza assume quest'anno un valore ancora più significativo alla luce delle gravi conseguenze che, soprattutto sulle categorie più fragili, sta avendo la pandemia da coronavirus. La necessità di lavorare sull'inclusione sociale delle persone disabili non è mai stata così imperativa come in questo 2020, nel quale l'emergenza sanitaria dettata dalla pandemia ha ulteriormente aggravato le diseguaglianze preesistenti, ma anche in questa occasione l'Istituto Comprensivo Visconti di Ogiastro Cilento si è fatto trovare pronto, accogliendo l'invito del MIUR a celebrare la giornata internazionale delle persone con disabilità. In particolare i docenti dell'Istituto Cilentano, sempre pronti e collaborativi, nei giorni scorsi hanno guidato i loro studenti i lavori su tematiche relative all'inclusione, integrazione e disabilità e nella giornata odierna hanno organizzato un convegno online dove gli alunni hanno potuto presentare i propri lavori. Il convegno, aperto dal dirigente scolastico professor Rendina Vincenzo, che ha ringraziato il team professori e gli alunni per la grande disponibilità e prontezza a rispondere alle varie iniziative, nonostante le difficoltà dovute a questo periodo non proprio facile per la scuola italiana, si è concluso con la visione del cortometraggio Il Circo della Farfalla, un video molto toccante, dal messaggio chiaro. È possibile trovare un modo nuovo per aiutarsi, per scoprire e utilizzare le proprie risorse, anche quando tutto e tutti non hanno fatto altro che indicarci che così non è.